ciao a tutti e bentornati sul mio canale oggi vedremo insieme come disegnare una barba piuttosto folta per spiegare come disegnare la barba in modo realistico non possiamo generalizzare in quanto esistono diversi tipi di barba e diversi stadi di lunghezza la prima cosa da fare come sempre quando riproduciamo un disegno da foto è quella di osservare bene l'immagine per capire meglio in che modo dovremo iniziare dalla foto in bianco e nero notiamo che si tratta di una barba di un colore medio con diverse sfumature chiare e con zone scure che danno profondità e volume è inoltre ben marcato il movimento del pelo il nostro compito sarà quello di rendere il disegno il più naturale possibile a mio avviso un errore che molti commettono partendo da una foto come questa è quella di cercare di disegnare pelo dopo pelo ottenendo così un effetto troppo artificiale e perdendo anche molto più tempo nell'esecuzione proviamo a non riprodurre fedelmente l'immagine almeno dove possiamo permettercelo e cerchiamo di essere più liberi dobbiamo dare l'impressione della barba non disegnarla un pelo alla volta la tecnica è simile a quella utilizzata per disegnare i capelli se non avete visto il video vi invito a farlo lasciandovi anche il link in descrizione ok io direi che possiamo partire iniziamo allora consiglio di iniziare con una traccia con una matita hb iniziamo a delineare il movimento della barba in modo tale da non trovarci disorientati quando andremo a disegnare io ho in mano un hb della grafwood con la quale mi trovo bene inizio con un hb perché non è molto invasiva e va benissimo per fare questo genere di lavoro possiamo poi anche circoscrivere le zone più scure al fine di avere qualche punto di riferimento in più non preoccupiamoci di essere perfetti nel tracciare le linee del movimento della barba l'importante è che tutto ciò abbia un senso non possiamo certo tirare delle linee dritte grazie 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 Il secondo step sarà quello della campitura. Decido di partire da sinistra con la basetta iniziando a riempire utilizzando sempre la matita HB. Procediamo pure senza paura perché l'HB ha una tonalità piuttosto chiara. Ora è tutto abbastanza piatto quindi esercitiamo maggiore pressione con la matita definendo le zone più scure e avendo cura di mantenere il movimento della barba in modo tale da non perdere i nostri punti di riferimento. Grazie. Questa fase è forse la più lunga e noiosa ma se vogliamo che la nostra barba sia folta e voluminosa e il nostro disegno vibri anche questa parte non la dobbiamo trascurare. Grazie. 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 in modo tale da ottenere svariate tonalità, fondamentali al fine di un effetto realistico. Con l'HB possiamo uniformare il tutto, ammorbidendo lo stacco tra le zone chiare da quelle più scure. Per fare ciò possiamo anche utilizzare un pennellino. Sempre con un tratto leggero iniziamo anche a dare un'idea dei peli attraverso il disegno negativo, ovvero colorando attorno alla zona chiara. Grazie. 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 Adesso, sempre con l'HB ma con la punta più affilata, marchiamo ancora in modo graduale le zone più scure e in alcuni punti iniziamo a definire meglio il pelo della barba. Per uniformare tutto utilizzeremo sempre una 2B ma dalla punta più morbida, oppure il solito pennellino. Grazie. 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 con la direzione del pelo come al solito attutite tutto con la matita più chiara 2b in questa fase oppure il pennellino Grazie 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 Preoccupiamoci neanche di fare qualche lavoro di finitura come il peli all'estremità dapprima con un tratto leggero e poi via via più scuro ma con la punta affilata mi raccomando ciò donerà un senso di profondità al disegno Grazie 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 A questo punto procediamo individuando il nero più profondo e lo andremo a marcare con la matita 8b chiaramente allo stesso modo di come utilizzavamo la 6b Grazie 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 Siamo ormai arrivati addirittura ad arrivo La barba ha acquisito una sua identità Dopo aver utilizzato la 8b per il nero più intenso e ammorbidito il tutto evitando stacchi antinaturalistici ci soffermeremo sulle zone più chiare, i punti di massima luce, realizzando i peli dell'estremità, quelli che insomma sono un po' come la ciliegina sulla torta e per farlo ci avvaleremo dall'aiuto della Mono Zero, questo gommino dalla consistenza dura, ottimo per questo genere di lavori Io sono solito tagliarlo in diagonale per ottenere un effetto più sottile Quello che dobbiamo fare è creare l'effetto del pelo, in questo caso con movimenti pressoché casuali, essendo questa una barba piuttosto mossa Il gommino dovrà essere tagliuzzato di frequente in quanto tenderà a sporcarsi velocemente, venendo così a meno della sua funzione Anche in questo caso andremo poi ad attutire il tutto onde evitare un effetto troppo artificioso È un lavoro lungo e meticoloso ma anche molto divertente e se eseguito bene giocherà un ruolo importante nella riuscita del disegno Grazie 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 possiamo aiutarci anche con la gomma elettrica che ha la stessa funzione della mono zero forse è più difficile da governare ma se si tratta di prelevare la graffite nelle zone più scure è senza dubbio più efficace dopo aver creato l'effetto dei peli più chiari e avendo avuto cura di ammorbidire il tutto possiamo anche lavorare di definizione con una 2b dalla punta molto affilata per assottigliare meglio i peli grazie 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 bene direi che possiamo ritenerci soddisfatti abbiamo visto dunque come realizzare un tipo di barbafolta in modo realistico in quattro passaggi se ritenete che possa aver dimenticato qualcosa oppure vi è rimasto qualche dubbio o perplessità non esitate a scrivermi sarò più che felice di rispondere e se il video vi è piaciuto prego lasciate un like ciao alla prossima grazie 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 grazie